Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di PringiLuca e ragazzi, nuovo mese e quindi nuovo smartphone! Lo smartphone che andremo a vedere oggi, beh ragazzi, è uno smartphone che dal punto di vista estetico è spettacolare almeno per me è lo smartphone più bello del 2019 per il momento ragazzi, mi piace tantissimo, lo andremo ad unboxare in maniera super rapida perché sono veramente euforico e voglio andarlo a vedere assolutamente wow, mi aspettavo qualcosa di figo ma non di così figo ragazzi, questo smartphone è veramente bellissimo la colorazione Prismo White rende dei colori veramente unici mi piace da impazzire, lo adoro e non vedo l'ora di configurarlo, recensirlo e portarvelo qui sul canale all'interno della cuffiazione non troviamo nient'altro che adattatori di tutti i tipi da USB-C a USB-A, da micro USB a USB-C o il contrario cavo di alimentazione, alimentatore e finalmente un paio di cuffie erano due unboxing di smartphone che non trovavo delle cuffie all'interno dell'unboxing e ragazzi, era una cosa che non mi soddisfaceva ve ne avevo anche parlato in qualche video fa e vi lascio il link tutti qui in alto nelle schede ma ragazzi, in questo caso abbiamo delle cuffie di AKG bianche che sono veramente bellissime sotto il punto di vista estetico devo ascoltarle, devo farvi sapere qui sul mio canale cosa ne penso ma tutto sommato l'unboxing mi ha soddisfatto veramente alla massima potenza inoltre sto avviando una nuova serie, ovvero vlog mensile che vedrete alla fine di questo mese spero che vi piaccia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa mia iniziativa ovvero di utilizzare lo smartphone che andrò a recensire, unboxare insomma fare il tutto, come vi dicevo il mese scorso durante quel mese e quindi registrare il tutto con esso e non dico montare il video con esso perché sarebbe un po' complesso ma almeno lo andrò a sfruttare sotto tutti i punti di vista in modo da farvi vedere anche la qualità video, la batteria e insomma veramente di tutto io non vedo l'ora di portarvi una recensione riguardo questo dispositivo credo che farò una 5 cose che amo e 5 cose che odio di Samsung Galaxy S10 Plus quindi io vi saluto, vado a registrare qualcosa vado ad utilizzare un po' questo fantastico smartphone devo ancora configurarlo, inserire la sim e fare veramente tante cose prima di utilizzarlo a pieno e quindi vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale di YouTube